Con la fine dell'emergenza pandemica che aveva costretto lo scorso anno ad un'edizione ridotta alla Kermesse di Serra Petrona, torna nella sua veste più bella a Passimenti Aperti, dedicata al vitigno autoctono Vernaccia Nera, che apre di nuovo ai visitatori le sue cantine Scrigno. Le due domeniche da segnare sul calendario sono il 13 ed il 20 novembre, quando il borgo medioevale, culla di una tradizione peculiare nel panorama vitivinicolo delle Marche, si accenderà con i profumi, le storie e i saperi dei suoi vini inconfondibili. L'evento è organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, nell'ambito del piano di promozione, sostenuto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione, in collaborazione con il Comune di Serra Petrona. Durante la manifestazione sarà possibile degustare, direttamente nei luoghi di produzione, le due qualità espressive del vitigno, la Vernaccia di Serra Petrona di OCG, versione spumantizzata, che vanta un metodo di lavorazione unico con tre fermentazioni, e poi il Serra Petrona Doc, vino fermo che con le sue sfumature speziate spicca per personalità. Siamo davvero felici di poter tornare ad aprire gli appassimenti, sottolinea il direttore dell'Istituto Alberto Mazzoni. L'appuntamento nell'incantevole piazza del Borgo è con le case vinicole aderenti Alberto Quacquarini, Colle Luce, Fonte Zoppa, Podere sul Lago, Serboni, Terre di Serra Petrona e la giovane azienda Verser, che quest'anno si aggiunge agli storici protagonisti di Appassimenti Aperti. Sarà inoltre attivo un servizio navetta per visitare le cantine Colle Luce, Terre di Serra Petrona, Servoni e Podere sul Lago, dove i produttori racconteranno tutta la passione che c'è dietro le due denominazioni. Una manifestazione che da anni è capace di appagare il gusto e la curiosità sia del professionista del vino che del viaggiatore in cerca di esperienze autentiche. L'esperto può infatti approfondire le particolarità di una produzione piccola e preziosa di 70 ettari vitati, con i suoi articolati processi di lavorazione e una ricchezza sensoriale in piena scoperta che ha fatto conoscere Serra Petrona anche oltre i confini nazionali. Il turista ritrova poi in questo territorio i sapori genuini, l'atmosfera unica di un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, il paesaggio incantato dei Monti Azzurri vestito dei colori autunnali ed un patrimonio culturale tutto da scoprire.